Negli ultimi anni si è affermata una visione che vede l'ambiente, la società e l'economia essere strettamente collegati tra loro. Da qui nasce il progetto Città d'impatto positivo di PMG Società Benefit, che ha l'obiettivo di creare una forte rete tra tutti i soggetti e gli attori della cittadinanza con un obiettivo comune, migliorare il benessere e la qualità della vita. Come amministrazione abbiamo volentieri accolto la proposta del Centro Maiautica di San Giovanni in Persiceto di collaborare con loro con questo progetto proposto dalla PMG Italia per una città di impatto positivo. Grazie a questo progetto ci saranno degli interventi sia dal punto di vista ambientale sul nostro comune ma anche dal punto di vista culturale grazie alla collaborazione futura con alcune scuole del territorio. Ma soprattutto sosterremo questa importante realtà che esiste ormai da anni nel nostro comune che è appunto quella del Centro Maiautica, che è un centro per ragazzi disabili e quindi ancora una volta questa amministrazione cerca di appunto supportare progetti innovativi. Questo progetto in particolare farà sì che il Centro Maiautica abbia dei mezzi di trasporto ulteriori a sua disposizione per i ragazzi disabili. Ringrazio fin da ora le aziende del territorio che decideranno di collaborare insieme a noi. La sfida di Open Group è stata quella di mettere assieme settori molto diversi. Open Group è quindi una cooperativa sociale multisettoriale. Ci occupiamo di disabilità, di integrazione, di accoglienza e tutela di minori, nidi, ma ci occupiamo anche di cultura, di rigenerazione urbana e abbiamo anche al nostro interno un'agenzia di comunicazione. Quindi proprio la sfida è stata quella di, in questi anni, intrecciare diversi settori per portare un valore aggiunto complessivo alla cooperativa. Non facciamo solo assistenza, ma l'approccio che abbiamo con le persone che incontriamo è quella della crescita, dell'empowerment e di dotare di strumenti che possano permettere il più possibile, a seconda delle competenze di ognuno, di essere autonomi e ritornare a vivere il più possibile sui propri territori. Per noi il centro è anche il territorio, quindi i nostri servizi sono all'interno del territorio, collaboriamo con le amministrazioni ed è per questo che abbiamo accettato con grande piacere di partecipare al progetto Città Impatto Positivo. Il centro Maieutica è un centro per posti indiversamente abili, è un centro accreditato che è a San Giovanni in Persiceto e come vedete la sua caratteristica principale è quella di essere inserita in un bel parco, nel verde. Di conseguenza tutte le attività che noi facciamo sono attività che si integrano perfettamente con il territorio. Maieutica è un centro di urno per disabilità medio grave che ha sempre avuto un impatto molto forte sul territorio, sulla comunità. Allora, il settore di disabilità di Open Group accoglie circa 130 persone con disabilità dai 18 ai 65 anni con disabilità psicofisica più o meno grave. La proposta che facciamo su vari territori è quella di... è molto diversificata con centri diurni per disabilità medio grave e laboratori protetti, centri socio-occupazionali per disabilità medio lieve e progetti sull'autonomia per una vita indipendente con gruppi appartamento, appartamento a bassa soglia. La filosofia del benessere di persone con disabilità che vengono incluse nel territorio per noi è importantissima perché crediamo nello sviluppo di capacità che comunque esistono. Quindi lavorare sullo sviluppo delle capacità è un filo, un fil rouge conduttore tra tutti i nostri centri. Grazie a tutti.